Si discute moltissimo del recovery plan e di come finanziarlo, ma c'è un tema che resta sempre in ombra. Se questo verrà finanziato da debito pubblico europeo, qualche forma di euro bonds insomma, se questo sarà debito comune a tutti gli europei sarà necessario che le scelte riguardo a come spenderlo, anche queste vengono fatte in comune da tutti gli europei. Cioè è chiaro che non si può pensare di avere debito europeo ma speso a livello nazionale sulla base di priorità nazionali. Se il debito deve essere europeo anche la gestione dovrà essere europea, sulla base di priorità scelte in comune, di una governance di questi fondi scelta e decisa in comune, sulla base di modalità di erogazione decise tutti insieme. Non si può pensare di avere in sostanza la botte piena e la moglie ubriaca, fondi europei su priorità scelte e governance nazionale.